Ciao a tutti, scusate, non sono particolarmente felice nell'uso delle tecnologie con cui anche noi parlamentari dovremmo saper fare comunicatori, però ci tengo a darvi questo messaggio velocissimamente. Bene, oggi sono stato a Cetraro in occasione del Consiglio Comunale che si è svolto lì sul Tirreno Cosentino per riprovare, per stigmatizzare, per censurare quanto è avvenuto sabato sera allorquando sette colpi di pistola probabilmente sono stati sparati contro l'autovettura privata del maresciallo D'Ambrosio il maresciallo che guida la locale caserma dell'arma dei carabinieri Cetraro è il paese in cui ha conquistato notorietà anche a livello nazionale Franco Muto, il cosiddetto re del pesce, definito tale perché controllava in maniera monopolistica e mafiosa andranghetistica il mercato appunto ittico di questa piccola ma un tempo ridente cittadina del Tirreno Cosentino, ma oggi sono stato anche impegnato a preparare il campo a qualcosa di straordinario, secondo me è straordinario perché che l'informazione pubblica attraverso la RAI si interessi di mafia è qualcosa di straordinario. Che lo faccia in particolar modo relativamente all'andrangheta è ancora più importante. Purtroppo c'è una sottovalutazione enorme del problema Calabria e di conseguenza del problema drangheta. Io pertanto invito tutti quanti voi e vi chiedo di estendere questo invito che il Presidente della Commissione Antimafia vi sta facendo a tutte le vostre conoscenze, a tutti i vostri amici sui social, a dar un'occhiata che non sia distratta, che non sia superficiale, alla trasmissione di questa sera condotta da Riccardo Iacona su RAI3 e che inizia alle 21.20 di presa diretta. Iacona è famoso per il suo giornalismo d'inchiesta e questa puntata è integralmente dedicata al processo di nascita Scott, processo che si sta svolgendo da inizi gennaio alla mezza terme in un'aula bunker che è stata realizzata in particolar modo per la tenacia, per la costanza, per l'abnegazione del procuratore capo di Catanzaro, il dottor Gratteri, perché altrimenti c'era qualcuno che avrebbe voluto far celebrare il più importante processo contro l'andrangheta fuori dalla Calabria come se non fosse l'andrangheta un problema calabrese. Sì, è vero, è un problema di tutto il paese, ma innanzitutto è un problema delle Calabrie. Benissimo, c'è questa possibilità. Vi chiedo di seguire con attenzione questo programma. Ah, perché tutti quanti ne saremo arricchiti presumibilmente, perché sarà un programma di informazione diretta, parleranno alcuni dei protagonisti nel bene e nel male di questo dibattimento, ma poi perché rappresenterà un modo di conoscere una delle realtà mafiose più importanti al mondo, l'andrangheta calabrese, su cui ancora ben poco si sa, perché ben poco si vuole sapere. Lasciatemi dire, il potere troppe volte ha stretto rapporti, rapporti d'amicizia con le organizzazioni mafiose e di conseguenza a tutela delle stesse evita che vi sia un'adeguata conoscenza delle consorterie mafiose. Vi chiedo pertanto di dedicare la vostra attenzione, sollecitando anche amici e conoscenti, al programma di Rai 3 che andrà in onda alle 21.20, condotto da Riccardo Iacona e là per esempio si potrebbe anche capire perché mai quella benedetta operazione che portò agli arresti di oltre 400 cristiani, di oltre 400 persone, fu anticipata al 19 dicembre del 2019, fu anticipata di 24 ore perché ci fu come al solito una fuga di notizie che mise in dannato pericolo la realizzazione dell'operazione stessa. Guardate, se c'è una fuga di notizie, già questo è grave, ma se c'è una fuga di notizie che riguarda una maxi operazione volta a debellare, a smontare, a disarticolare clani importanti come quello mancuso che ha avuto all'imbadi la sua capitale in provincia di Vibo Valenza, beh, allora la cosa è ancora più grave. Vi chiedo pertanto non di ascoltare Nicola Morra, perché Nicola Morra oggi c'è e poi non ci sarà, ma di dar ascolto e attenzione a uomini che puntualmente stanno combattendo l'andrangheta con un senso dello Stato, con una dedizione, con uno spirito di sacrificio enormi. Per cui cerchiamo di prestare attenzione al lavoro degli uomini dell'arma dei carabinieri, perché fu impegnato il ROS dell'arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, di tutte le forze dell'odine e soprattutto di tutti gli organismi, gli uffici giudiziari coinvolti, perché certamente dal punto di vista repressivo l'inchiesta rinascita a Scott è stata enorme. Però, e qua veramente concludo, le mafie, tutte le mafie, e in conseguenza anche l'andrangheta, verranno sconfitte soltanto quando si passerà a combattere le stesse sul versante preventivo. Noi dobbiamo investire in istruzione, in cultura, in autostima, in coscienza della nostra dignità e fin quando questo non avverrà, le mafie avranno sempre vinto. Vi chiedo scusa, ma ci tenevo a farvi sapere che questa sera, alle 21.20, c'è la possibilità di avere un'ora e mezzo, spero, di ottima televisione. E se poi questa è TV di Stato, RAI, servizio pubblico, forse questa è una delle poche occasioni in cui si può essere orgogliosi di questa programmazione e di questi palinsesti. Vi ringrazio, alla prossima.